da martedì nuovo peggioramento con nubi e precipitazioni valori termici ancora sotto la media martedì 28 maggio sereno al mattino poi aumenta la nuvolosità vento da sud est possibili piovaschi in serata minima in salita massima in calo mare da mosso a molto mosso mercoledì 29 maggio tempo instabile con pioggia alternata a schiarite vento da sud ovest sostenuto sulla costa minime in ripresa massime invariate mare mosso giovedì 30 maggio pioggia e rovesci fin dal mattino valori termici in abbassamento compresi fra i 10 e 14 gradi venerdì 31 maggio tempo ancora perturbato con rovesci sparsi minime senza variazioni massime in risalita di 3 gradi la marea di martedì 28 maggio è sostenuta la massima a mezzanotte 35 85 centimetri la minima alle 7 e 30 meno 10 centimetri grazie a tutti Grazie a tutti.